Una disponibilità preventiva che può velocizzare le operazioni nel caso di una crescita importante nel numero di arrivi. L'azienda Felterina per i servizi alla persona ha attivato una casella di posta elettronica per raccogliere eventuali segnalazioni di alloggi disponibili per gli ucraini in fuga dalla guerra. La mail è la seguente emergenzaucraina.it valida solo per la disponibilità di alloggi. Eventuali posti letto in abitazioni private si aggiungerebbero a quelli nelle strutture già individuate dal comune con l'azienda Felterina. Per le segnalazioni vanno indicati nome e cognome, contatto telefonico, tipo di alloggio, numero di posti letto. I servizi sociali intanto hanno individuato una ventina di posti distribuiti in alcuni appartamenti. La nostra comunità, commenta l'assessora sociale Giorgia Licastri, si dimostra anche in questa occasione aperta e attenta alle esigenze di chi soffre, non solo in occasione delle emergenze che colpiscono il nostro territorio, ma anche di eventi drammatici nazionali o internazionali come questo. Una spinta solidaristica che si nota anche a livello regionale. Sono centinaia, riferisce il presidente della regione Luca Zaia, le offerte di ospitalità e lavoro che vengono manifestate da famiglie, imprese e organizzazioni turistiche come federalberghi e il circuito termale. L'importante, sottolinea Zaia, è mantenere un coordinamento territoriale attraverso le prefetture. Per quanto riguarda le raccolte fondi, il conto corrente attivato dalla regione ha già registrato bonifici in ingresso per circa 15.000 euro. I primi a muoversi, commenta Zaia, sono sempre i cittadini comuni, gli anziani che magari possono mettere 5-10 euro della loro pensione, le famiglie. A loro e a quelli che seguiranno va tutta la nostra gratitudine.